Romina Power rompe il silenzio dopo anni. Mi è stato sottratto troppo presto. Dopo tanti anni, Romina Power torna a parlare di un terribile fardello che ha dovuto sopportare nella sua vita. Ecco di cosa si tratta. La vita delle celebrità non va sempre come pensiamo. Ad esempio. La vita di un'icona della musica come Romina Power sembra poter essere stellare e splendida. Con tutti gli obiettivi raggiunti e i sogni che la donna è riuscita a realizzare nel corso della sua carriera. Eppure non è tutto oro ciò che luccica. E anche la sua vita non è esente da problemi e drammi che possono segnare profondamente il vissuto di una persona. Seppur si tratti di una celebrità. La sua vita è stata piena di appagamento. Sì. Ma anche di molto dolore. Soprattutto alcune ferite che fanno male per sempre e non si rimarginano mai del tutto. E infatti. Anche Romina Power. Ancora oggi. Si sente la mancanza di una persona che amava tantissimo ma che le è stata portata via troppo presto. Figlia degli attori hollywoodiani Tyron Power e Linda Christian. Romina Power ha trascorso la sua infanzia negli Stati Uniti prima di trasferirsi in Italia. Terra che l'ha accolta e che oggi considera la sua casa. Ha mosso i primi passi della sua carriera artistica nel campo del cinema e ha recitato in ben 14 film quando l'artista aveva tra i 13 e i 17 anni. La sua vita si è divisa tra Roma, Londra e Los Angeles. Per poi essere completamente trasformata dall'arrivo di Albano. Era il 1967 e Romina Power era una ragazzina quando i due si incontrarono. Galeotto fu nel sole. Musicarello uscito dopo il grandioso successo dell'omonima hit. Da quel momento la sua vita è cambiata completamente. Per cui la donna lascia il cinema e gli Stati Uniti e si trasferisce in Italia per dedicarsi alla musica. Altra sua grande passione. Albano e Romina si sono sposati poi nel 1970. Con quattro figli. Dando inizio a un sodalizio artistico che li ha resi un simbolo della musica italiana di fama mondiale. Di recente, però, la stessa Romina Power ha ammesso che prima che accadesse tutto. La sua vita era stata segnata da un evento che l'aveva cambiata moltissimo. In un'intervista a Walter Veltroni sul Corriere della Sera. Romina Power parla della sua famiglia. Ha detto che i suoi genitori si sono separati quando lei aveva 5 anni e solo pochi anni dopo. Quando lei aveva 7 anni? Suo padre è morto improvvisamente. Mio padre purtroppo mi è stato sottratto troppo presto. La vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. Ha dichiarato. Il 15 novembre 1958 suo padre si ammalò durante una pausa dalle riprese per un duello che stava girando a Madrid. È morto mentre veniva portato in ospedale e Romina ha affermato che la vita aveva lasciato loro troppo poco tempo insieme. Se lui fosse vissuto, la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Molto più ricca. Molto più completa. Ha detto di lui. Grazie a tutti.